Mamma mia quanto è bella questa donna, questa donna che noi abbiamo imparato a conoscere la Ciao Darwin, questa donna che se non sbaglio ho visto su un po' di settimanali con tante fasce perché lei ha iniziato la sua carriera proprio partecipante a dei concorsi bellezza. Oggi è tanto ricercata nel mondo dell'arte e del cinema, Paola Blond. Marilyn Blond Pavia, il mio nome d'arte è Marilyn Blond e il nome normale è Paola Grossi. Paola Grossi, senti Paola, ma tu nella vita cosa fai? Io sono un architetto. Un architetto? Sono un architetto in realtà e per hobby ho iniziato a fare i concorsi tre anni fa e ho vinto titoli assoluti nazionali e sto continuando a sfilare ancora adesso. Intanto ho fatto anche parecchie cose in televisione, ho fatto con Gabriele Corsi Take Me Out, ho fatto con Pappi Guess My Age vincendo il monte premi di 11.350 euro, ho fatto con Simone Marchetti il guardaroba delle meraviglie, ho fatto poi il video con Max Pezzali le canzoni alla radio e poi ho fatto Ciao Darwin il mese scorso come Messalina. e continuerà a fare. Senti, qual è la tua estate? Dove? La mia estate è al mare, in Liguria oppure in Costa Azzurra oppure magari a Napoli, Ischia, queste zone capriche mi piacciono molto. Noi ti auguriamo una buona estate e tanta tanta buona carriera. Ciao!